Sì, Roberto Zanzi, il direttore generale del Bologna, abbiamo visto la formazione del Cagliari, anticipiamo un'indicazione invece su quella del Bologna, non ci sarà Divaglio, ci sarà Acqua Fresca in attacco, abbiamo visto anche Divaglio parlare con Pioli poco fa, come c'è rimasto Divaglio, che è il capitano, insomma, il singolo di questa squadra? No, proprio perché il capitano è molto responsabile e pensa al bene della squadra, non al suo bene personale. In questo momento è stata fatta una scelta che responsabilizza tanto anche Robert e quindi dovrà dare il suo contributo e dovrà cercare di fare il massimo, sapendo che poi abbiamo sempre anche Marco, che può darci una mano durante la partita. Bologna in questa stagione ha segnato nove gol, tre gol li ha segnati Ramirez, che ha fatto anche tre assist, avete rinnovato il contratto a Ramirez, però si avvicini al calciomercato, può giurare Zanzi che Ramirez non si muoverà da Bologna a gennaio? No, innanzitutto Ramirez ci sta dando il suo apporto, che è molto importante e credo che debba stare qui con noi per tutta la stagione, proprio perché abbiamo bisogno di lui e lui ha piacere di crescere con noi, quindi non è assolutamente la nostra intenzione privarci di lui, ma cercare di fare il bene di questo Bologna e in questo momento lavorare a Senghioz.